Ben ritrovati gentili telespedatori, una nuova edizione del telegiornale del Veneto orientale. In apertura parliamo subito di cronaca, cronaca giudiziaria che arriva da Pordenone con un altro capitolo della Venice Investment. Perché? Perché ci sono degli indagati che hanno chiesto di patteggiare, insomma ci sono delle prove di patteggiamento. Si chiede una condanna appunto alla procura affinché poi il tribunale possa confermarla. Insomma ci sono state avanzate delle proposte, sentiamo allora quali sono nel servizio di apertura del nostro telegiornale. Il processo ai collaboratori di Fabio Gagliatto potrebbe esaurirsi con una raffica di riti alternativi che nel conto corrente aperto a favore delle vittime della megatruffa della Venice Investment Group porterà soltanto qualche briciola dei 67 milioni di euro polverizzati con i finti investimenti nel Forex. Ai truffati che si sono costituiti parte civile alla fine arriverà soltanto qualche decina di euro. Mi sono reso conto che è più importante la tasca che non la libertà, ha sottolineato il procuratore Raffaele Tito evidenziando la grande difficoltà incontrata nelle trattative per i patteggiamenti. Il collegio presieduto da Alberto Bossi, all'atere Piera Binotto ed Elisa Tesco, ha indicato il 3 marzo come data ultima per trovare un accordo. Finora Tito e il PM Monica Carraturo hanno dato il consenso a sei patteggiamenti subordinati a un versamento complessivo di 140 mila euro. Altre sei difese hanno fatto istanza di patteggiamento, ma senza risarcimenti e limitazione all'accusa di abusivismo finanziario, un orientamento che i PM non condividono. Tito ha già fatto capire che cercherà di strappare ulteriori versamenti. Sei sono già definiti. In testa c'è la slovena Maria Rade, prestanome consulente di Gaiato in Slovenia, alla quale il gruppo Monica Biasutti, in udienza preliminare, aveva respinto il patteggiamento, ritenendo la pena incongrua. Erano due anni 10 mila euro di multa e 88 mila come ristoro. Per lei l'avvocato Damian Terpin ha concordato due anni e 5 mila euro di multa, pena sospesa. E tra gli imputati che verseranno le somme più importanti, come Marco Zussino di Basiliano, per il quale l'avvocato Elisabetta Zuliani ha raggiunto un accordo che stabilisce una pena di un anno e 4 mesi e 3 mila euro, ma soltanto per l'accusa di abusivismo finanziario. Rade e gli altri, invece, patteggiano anche per il reato associativo e la truffa. Massimiliano Vignaduzzo di San Michele a Tagliamento, con gli avvocati Francesco Murgia e Carlotta Venezia, patteggerebbe un anno 9 mesi 10 giorni e 4 mila euro senza condizionale. Per Giulio Benvenuti, avvocato Marco Delben, l'accordo prevede un anno 10 mesi e 4 mila euro di multa, pena sospesa. Per Luca Gasparotto di Cordovado, avvocato Olga Fabris, un anno 8 mesi e 3 mila 400 euro senza condizionale. E infine Claudia Trevisan, braccio destro di Gagliatto. Gli avvocati Giorgio Dussine e Vincenzo Arcidiacono hanno ottenuto un anno 11 mesi e 3 mila euro, pena sospesa. Sarà il Tribunale, ovviamente, a decidere se le pene sono adeguate alla gravità dei fatti contestati. Il processo sulla Venice si sta intrecciando con quello che si celebra a Venezia sui casalesi di Eraclea, nel quale Gagliatto si è costituito parte civile, sostenendo di essere vittima del clan di Donadio. Se questo fosse vero, secondo molti difensori, per i propri assistiti verrebbe accadere l'ipotesi di associazione per delinquere e truffe contestate a Pordenone. E infatti sono stati proposti sei patteggiamenti limitati all'abusivismo finanziario. L'altra fetta di imputazione, i legali di Messimiliano Franzin e di Oderzo, Daniele Saccone, Mareno di Piave, Andrea Zaggia di Soccolongo, Moreno Valerine di Due Carrare, Flavio Nicodemo di Taglio Veneto e Massimo Osso di Palmanova, vogliono affrontarla al dibattimento, convinti di incassare una soluzione. La pena proposta di 8 mesi e 2.700 euro di multa. Per gli avvocati Remo Lotto, Dorazio, Chiara Maltese, Nicola De Stefano, Piergiorgio Sovernigo, si prospetta una dura battaglia con la procura. Per Massimo Minighin, diffusato di Portogruaro, ideatore della piattaforma online, l'avvocato Cristiano Leone ha chiesto di essere ammesso a un abbreviato condizionato a una perizia informatica. Dimostreremo, ha spiegato, che non aveva nulla a che fare con la gestione del sito. Non era lui a falsificare i rendimenti dei clienti della Venice. E ora parliamo invece di sanità, cambiamo decisamente pagina. In ospedale, al San Dommaso dei Battuti, a Portogruaro, arrivano nuovi ambulatori con una struttura che di fatto verrà ampliata. Ci spiega nel servizio Cristiano Perizzaro. Direttore Bramezza, nuovo utilizzo degli spazi dell'ospedale di Portogruaro, che prima erano inoccupati, ora verranno occupati grazie a cinque nuovi ambulatori. Quali saranno, quali sono le tempistiche e l'ordine di spesa? Oggi consegniamo i lavori per la realizzazione qui all'ospedale di Portogruaro dei nuovi ambulatori, tre ambulatori per l'ottorino e la ringoriatria e due, invece, sale per la gastroenterologia. È un intervento che facciamo qui su una parte dell'ospedale che non era utilizzata, dal 1995, su 250 metri quadri di pian terreno dell'ospedale, l'investimento di 775 mila euro più 450 mila euro di attrezzature, quindi circa 1 milione e 200 mila euro. Assieme agli altri interventi che stiamo facendo qui all'ospedale di Portogruaro, facciamo in modo di creare servizi sempre maggiori per i nostri cittadini, migliorando non solo la quantità degli interventi, ma soprattutto la qualità delle prestazioni. Stiamo dando alle nostre unità operative, ai nostri medici, il massimo delle attrezzature oggi a disposizione in qualsiasi reparto, proprio per dare il massimo ai nostri cittadini. Noi andiamo a lasciare uno spazio vetusto per andare a occupare uno spazio che risulterà moderno, ergonomico e funzionale. Sicuramente abbiamo modo di dare comfort ai pazienti, privacy e quindi contribuire al miglioramento della qualità delle cure, delle prestazioni e anche con soddisfazione, me lo lasci dire, anche con maggior soddisfazione di chi ci lavora. A San Dona di Piave invece arrivano i controlli gratis nel reparto di cardiologia voluti dai volontari. 150 i posti a disposizione per questa domenica. Un check-up gratuito aperto alla cittadinanza. L'ospedale di San Dona di Piave apre le porte domenica 9 febbraio dalle 8 alle 11. Si tratta della bella iniziativa all'insegna della prevenzione promossa dall'Associazione Amici nel Cuore in collaborazione con l'Azienda Sanitaria 4 e il Comune. Sarà possibile infatti essere sottoposti a una visita completa nel reparto di cardiologia dell'ospedale. Il check-up è riservato a coloro che non sono sottoposti a controlli cardiovascolari periodici, ha spiegato Anna Favero, Presidente di Amici del Cuore. La mattinata è dedicata solo a chi di solito non fa questo tipo di controlli. La nostra iniziativa, infatti, ha come obiettivo la prevenzione. Lo screening cerca di andare ad individuare i frattori di rischio o le patologie, mentre coloro che sanno già di avere dei problemi cardiaci sono seguiti dall'Azienda Sanitaria. In totale sono disponibili 150 posti. È necessario presentarsi a digiuno dalla mezzanotte, portando la tessera sanitaria e un documento di identità. Il programma prevede il rilevamento del peso corporeo, dell'altezza, la misurazione della circonferenza addominale e della pressione arteriosa, il test capillare della glicemia e del colesterolo, la colazione, l'elettrocardiogramma, la determinazione del grado di rischio cardiaco, con la consegna dei risultati ottenuti e l'eventuale colloquio con un cardiologo. L'appuntamento si inserisce nella settimana di cardiologia aperte, organizzata dalla AMCO, l'Associazione Nazionale dei Medici Cardiologi, che operano nel settore sanitario nazionale, continua Favero. Per tutta la mattinata il personale medico e infermieristico opererà a titolo volontario, insieme ai volontari della Croce Rossa di San Donà. Anche alcune aziende della zona sostengono l'iniziativa, Tergas, Brasiloro e la vetrina del pane di Ceggia. Amici del Cuore è un gruppo attivo da 30 anni nel Veneto orientale. Ogni anno, di regola, promuove tre check-up gratuiti nei comuni del territorio. Quello all'ospedale di San Donà è il primo appuntamento del 2020. Nel corso dell'anno, altri due sono previsti a Jesolo e a Torre di Mosto. Andiamo a Teglio Veneto, cambiamo pagina, con il sindaco Oscar Cicuto, che ha parlato della sinergia nella conferenza dei sindaci. Lui stesso, che è vicepresidente della conferenza dei sindaci del Veneto orientale, punta a dare sempre più servizi alla popolazione. Lo ha sentito Lauro Nicodemo. Cicuto Oscar, sindaco di Teglio Veneto, ma soprattutto vicepresidente della conferenza dei sindaci per quanto riguarda la sanità. Teglio Veneto, zona area di confine, si parla del Friulano. Qual è la ragione per la quale, o quantomeno se i sindaci tendono a muoversi in questo senso, di una maggiore collaborazione interregionale tra le sanità del portoguarese, del sanvitese, della tisanese, che hanno tutti dei doppioni, ma che mancano le eccellenze. In sinergia possiamo avere anche le eccellenze. Intanto è giusto specificare che il nostro Friulano è un Friulano concordiese, come si scrive nella bandiera del Friulano del Veneto orientale, quindi questa sia una cosa importante, perché i Friulani non riconoscono molto il nostro Friulano come autottono. Per quanto riguarda invece la conferenza dei sindaci della sanità, è un'esperienza nuova che io porto avanti da maggio. e la sinergia diciamo che è sempre al centro della conferenza, perché i sindaci devono fare sinergia, devono fare gruppo, perché devono dare servizio al cittadino. Questa penso sia la cosa che tutti i sindaci di tutti e quattro i territori abbiano come cosa prima. E quindi lei fa l'esempio del sanvitese, della tisanese, del portoguarese, ma è giusto prima di tutto pensare al proprio territorio come territorio vasto di area. Poi per i doppioni, quello non dipendono solamente da noi, dipendono anche dalle ASL, e poi che ci sia un po' di concorrenza, insomma, è l'anima che ha del commercio a concorrenza. L'importante è che il servizio venga dato ai cittadini, sia un servizio buono, se non ottimo, e sia sempre migliore. E quindi poi il migliore vincerà. E torniamo a Portugaro per parlare invece del centro storico della cittadina dell'Emene. In Corso Martiri arriveranno nuovi punti luce, ma anche la filodiffusione lungo appunto i portici. Sentiamo. La Regione dà l'ok al progetto di filodiffusione dei portici. Si è svolto in municipio l'incontro preliminare per l'avvio delle attività contenute nel progetto finalizzato allo sviluppo dei distretti del commercio riconosciuti dalla Regione. Il progetto, che intende accrescere l'attrattività e sostenere la competitività del centro urbano, era stato presentato alla Regione a seguito di un apposito bando nel luglio 2019. La Regione ha valutato positivamente e ha messo a contributo tutti i progetti presentati dai comuni. Il progetto di cui il Comune di Portugaro è capofila e che raggruppa anche i comuni di Caorle, Concordia Sagittaria, Confcommercio, Confartigianato, Feder Distribuzione, Camera di Commercio, Vegal, la Fondazione Musicale Santa Cecilia, Pollins e Strada dei Vini Doc e L'Isombra Maggiore si articola in varie fasi gli interventi. L'amministrazione comunale, in particolare, ha inserito tra gli interventi da attuare opere di illuminazione e filodiffusione dei portici del centro storico su corso martiri della libertà, per rendere maggiormente apprezzabili e fruibili le vetrine dei negozi e le pregevoli decorazioni storiche e al fine soprattutto di sviluppare un efficientamento energetico delle aree coinvolte. A ciò si aggiunge un intervento di rimodulazione del mercato settimanale lungo le vie del centro. Il progetto si svilupperà quest'anno e il prossimo. A breve saranno avviate le procedure per la progettazione. Le attività commerciali, ha detto l'assessore comunale alle attività produttive, Luigi Geronazzo, sono il cuore pulsante della città. Abbiamo lavorato e continuiamo a farlo per offrire le migliori condizioni di sviluppo e radicamento di negozi ed esercizi pubblici. Puntiamo a rendere sempre più accoglienti, frequentanti e apprezzati i nostri centri cittadini e a favorire, ha aggiunto il sindaco Maria Teresa Senatore, ogni manifestazione impresa o iniziativa che contribuisca a rafforzare le occasioni di socializzazione, incontro e condivisione. I piccoli negozi sono un fattore essenziale di sopravvivenza, equilibrio e benessere che va preservato. Per il Comune di Concordia Sagittaria il progetto prevede opere di sistemazione di alcune parti di Via Roma e della piazza comunale per una riqualificazione degli spazi che andranno ad accogliere il mercato, successivamente riorganizzato, con lo scopo di favorire la fruizione turistica e commerciale. A Caorle verranno realizzati interventi di riqualificazione urbana ed architettonica di Viale Santa Margherita. Le modalità di finanziamento saranno definite all'interno del bilancio regionale. E ora andiamo a Sant'Ona di Piave per parlare invece di escursionismo giovanile. Ci saranno delle guide che permetteranno di avvicinare i giovani a questo tipo di sport. Ci racconta tutto Cristiano Beliziano. A pochi giorni dai festeggiamenti per i 15 anni di attività, l'associazione ciclistica Magica Bike di Sant'Ona di Piave lancia le nuove attività per il 2020, tra le quali un progetto sportivo educativo rivolto ai più giovani che partirà con un Open Day sabato 7 marzo. Il progetto si chiama Escursionismo giovanile. Quest'anno si inserirà come novità, oltre a quelle tradizionali legate alla mountain bike e al ciclismo, anche la parte dell'escursionismo giovanile, che è gestito dal gruppo guide. Sono 12 guide di Monda Bike accreditate presso l'Accademia Nazionale di Milano. Saranno loro che guideranno questo tipo di progetto, a cui teniamo particolarmente perché vogliamo avvicinare e cercare di avvicinare sempre di più i giovani a questo sport. Sette saranno le uscite in programma, da marzo a luglio, che vedranno affiancati ai ragazzi il gruppo guide di Magica Bike, con capo progetto Cristiano Lorenzon. Il progetto prevede nel suo insieme delle uscite con i ragazzi dai 10 ai 15 anni sul territorio vicino a noi, quindi fluviale, collinare e poi montano, in una forma graduale di inserimento, di apprendimento, non solo nell'uso corretto della bici e della sua guida, ma anche di quello che è tutto il mondo a 360 gradi delle due ruote, ovvero la meccanica, l'alimentazione, una corretta alimentazione specialmente e tutto quello che ne determina un buon utilizzo in maniera sana. Cosa vi ha spinto a realizzare questo progetto? Il scopo nostro è avvicinarle alle due ruote senza finalità agonistiche, ma espressamente proprio per un'educazione e andare in bici, perché nonostante si pensi, molti ragazzini non sanno tenere l'equilibrio, purtroppo oggi che vivono in città, sempre a casa e sempre in macchina. Ospite dell'evento e testimonia del progetto è il componente della nazionale italiana BMX Freestyle Elia Benetton, cresciuto agonisticamente proprio tra le fila di Magica Bike. Io pratico BMX Freestyle Park, che appunto ha messo insieme tutto quanto, sia il fatto del freestyle che il correre in bici, stare all'aria aperta e comunque praticare uno sport sano e sicuramente che porta fuori dalle case tutti questi giovani che stanno tanto davanti al telefono. Quindi è una cosa che mi ispira a farlo sempre di più. Non possono mancare gli scatti dal territorio, c'è Foto Reporter con il nostro Vinicio Scortegagna. Grazie a Vinicio Scortegagna e per Foto Reporter, ma a voi tutti i telespedatori per aver scelto l'informazione del Veneto orientale. Ci fermiamo con questa edizione, torneremo con le altre. Vi invito a restare con noi, a seguirci anche sulla pagina Facebook di Media24. Vi ricordo sabato saremo in diretta da Fiume Veneto per il Carnevale di Fiume Veneto. Grazie ancora per essere stati con noi e buon proseguimento con i programmi della Rete. A risentirci, alla prossima.